Lo ricordo come una persona che era alla portata di tutti, veniva in classe con me, abbiamo fatto l'istituto tecnico da geometria insieme, poi lui si è lavorato ingegnere, è politecnico, ma abbiamo fatto un percorso politico insieme che ci ricorda non solo l'età ma anche l'anno di nascita insieme e ci ha permesso così di travenaria e borgo di lavorare soprattutto per la circonvallazione che è riuscita a essere aperta travenaria e borgo. Un ricordo di un fratello più per un amico.